Debo Ravong, studentessa, mestrina, 17enne, c'è lui, il signore presidente delle carri... Fai a me il suo peso, dai. Nando Cerotto. Nando, posso dirti una cosa? Allora, secondo quello che sento, in merito all'applauso che hai saputo tenere questa sera, secondo me c'è un qualcosa a cui pensare. Sei un uomo di successo. Eh, ecco, ecco, eh sì, dai. E lo facciamo, sto applauso. Allora, signore e signori, dicevo prima a Nando, dicevo prima che il cradino più alto dell'embodio è stato conquistato da Angela Rigoni. E quindi il cradino più alto dell'embodio di solito si trova in mezzo, in mezzo, ragazza, in mezzo, in mezzo. Allora, la fascia, eh beh, insomma, caspita. No, 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 tu che, però mettiti dietro magari che, insomma, ehi, Lara, che onore, guarda che roba. Insomma, a cingere la fascia, a, eh, Leonardo, Leonardo, che mi dice, ti metti lì, che è così, per l'applauso di l'embodio, ecco, bellissimo, ecco, questo, eh, fantastico, questo ci vuole, però c'è anche una coroncina. Per sorriso, guardate in macchina, mi raccomando, c'è anche una coroncina. Mi sembra giusto che questa coroncina venga, eh, che questa ragazza venga incolonata da Stefano Casotti, della vita, dove è renta? C'è una coroncina, dove sta? D'accordo? C'è? Ecco. Bravo Stefano, guarda che roba. Eh? Bello. Ha visto una coroncina così bene? Credo che solo lui sia capace di cingerla. Eccoci. Dove è andate? Senti, senti, il nostro, l'ha giapissimo il nostro, hai sentito che, che brano così cari sono. Ando, è stato un grandissimo piacere, davvero. Signore e signori, una festa meravigliosa, ci sono i fiori, che vorrei arrivare a me, eh, caspita, a pensieri. Dai, allora, c'è il cognere d'oro per la prima classificata, offerto appunto da Stefano Casotti per la gioielleria guerretta. Bellissimo. Ecco, questo, questo, eh, con un cuorecino, però a proposito, è Sant'Aventino, signore e signori, buon sapatentino a tutti quanti voi.